Certo, in Campania in generale, ma nello specifico in Terra dei Fuochi, è sempre stata sollevata la questione che i prodotti non fossero sani. In realtà non è vero. Noi abbiamo avuto dei riscontri che abbiamo ovviamente sequestrato ben prima che potessero andare su qualsiasi bancale di vendita, quindi sequestrati in campo. Dal momento in cui abbiamo fatto queste operazioni, stiamo parlando del 2013, quindi ormai anche abbastanza datate, non abbiamo più fortunatamente riscontrato alcun prodotto agroalimentare, prodotto che ovviamente non fosse compatibile con la salute umana. In ogni caso, la dimostrazione di essere presenti sul territorio è proprio quella, cioè di starci e di verificarli prima ancora che la filiera si attivi. Quindi, lì dove dovesse mai emergere una situazione del genere, verrebbe sequestrata prima ancora di poter addirittura viaggiare sul camion.